Buongiorno FTI Online, Borse sulla parità questa mattina, guardiamo l'indice Fuzzimib infatti che è solo marginalmente positivo, rimaniamo al di sopra dei minimi di settimana scorsa fino a che area 27,750 rimarrà come supporto, le aspettative sono in favore di un tentativo di ripresa, sotto quei livelli invece rischio di una discesa anche ampia, non dimentichiamo il gap che era stato lasciato nella seconda metà del mese di luglio, intorno ai 24.700 punti. Come sappiamo ormai da giorni, lo ripetiamo, i mercati sono in attesa delle parole di Jerome Powell, il Presidente della Federal Reserve, che parlerà alle 10 ore locale alle 16 qui da noi in Italia, al forum di Jackson Hole e c'è attesa per capire se da questo intervento si avranno nuovi indizi sulla tempistica di eventuali mutamenti della politica monetaria della Banca Centrale Americana, i mercati ieri hanno avuto un sussulto quando è uscita la notizia dell'attentato presso l'aeroporto di Kabul, però poi si sono nuovamente stabilizzati con il tema principale che resta quello appunto del simposio di Jackson Hole e che probabilmente li terrà fermi fino ad oggi pomeriggio. Poi vedremo quale sarà la reazione. Difficile ad anticiparlo, questa incertezza che ormai è evidente da giorni significa che nessuno ha una percezione di quello che potrebbe essere il discorso del capo della Fed e di conseguenza anche le sue conseguenze. È evidente che se qualcuno avesse già una percezione di dove andrà a parare Jerome Powell, i mercati si sarebbero già mossi. Quindi non ci resta da fare altro che attendere. Oggi ci dedichiamo quindi a un tema abbastanza interessante che è quello dei 10 titoli che vengono considerati migliori dall'analisi tecnica, o perlomeno dall'analisi tecnica di FTA Online, in questo momento ne guarderemo insieme 4, che sono i 4 di questi 10 che fanno parte del Futsimib, cioè Atlantia, Azimut, Interpampe e Unipol, mentre gli altri 6 che sono Banca Sistema, Salce, FXPrivia, GWS, Reply e Cesar, le andremo a guardare nella versione del video riservata agli utenti Patreon. Da dove viene questa lista dei 10? Tutte le mattine FTA pubblica una newsletter che è di accesso sia per gli utenti del sito FTA Online che per gli utenti Patreon. Nell'ambito di questa newsletter ci sono molte informazioni, dal commento di seduta al titolo considerato più interessante nella giornata, del calendario macro, ma ci sono anche i titoli migliori e i peggiori per l'analisi tecnica scelti tra i 100 più liquidi del mercato. Ci sono poi tutta una serie di tabelle di informazioni di trading per il Futsimib, per il Dow Jones Industrial e per l'Eurostox, quindi su tutti i titoli contenuti nell'ambito di questi panieri. Ma torniamo a concentrarci sui migliori, andiamo a guardare in dettaglio la tabella dei migliori 10, che sono i titoli che andremo ad analizzare. Nell'ambito di questa tabella tutti i giorni vengono riportati i nuovi segnali d'acquisto, perché è evidente che se uno ancora non ha il titolo in portafoglio, viene suggerito qual è il livello al di sopra del quale eventualmente tornare a comprarlo, se uno non lo ha già fatto seguendo la tabella che viene inviata tutti i giorni. Un potenziale target, nella colonna ultimo segnale ci sono il numero di sedute da quando il titolo è stato comprato dal trading system di FTA, nella colonna successiva il risultato dell'acquisto, che può essere ovviamente inutile o in perdita, frequenza ultima seduta ci dice da quanti giorni questo titolo fa parte rispetto alle ultime 30 sedute della tabella dei migliori, ad esempio abbiamo interpump che sono da 21 sedute sulle ultime 30 che è presente nella tabella, il rating di analisi tecnica che è un'indicazione di un indice proprietario di FTA che varia tra meno 100 e più 100, ovviamente più è elevato, più sintetizza una condizione grafica positiva per lo strumento in questione, la correlazione a un mese con il Futsal Share, vedete in questo caso in cui la borsa ultimamente non è stata particolarmente brillante, i titoli più interessanti hanno tutta una correlazione o quasi tutta una correlazione bassa o addirittura negativa con l'indice, solo Banca Sistema è una correlazione elevata, quindi è l'unico titolo tra quelli presenti in questa lista che si muove in sintonia con l'indice. La percentuale contro il valore scambiato sul totale mercato ci dice quanto pesa il titolo nell'ambito del mercato, ovviamente i titoli che fanno parte del Futsimib come Atlantia, Azimut, Unipol e Interpump vedete hanno tutta una percentuale prossima o superiore all'1% del totale, invece i titoli come ad esempio Banca Sistema rispetto al totale dei volumi scambiati sono addirittura di sotto dello 0,01% e poi l'ultima colonna ci riporta la variazione percentuale nel 2021 del titolo che viene preso in considerazione come vedete molti di questi titoli che sono nella lista dei migliori non solo si stanno comportando bene adesso ma lo hanno fatto in maniera significativa durante l'anno, la media del mercato è circa del 32-33% come rialzo quasi tutti i titoli che sono nell'ambito di questa lista stanno facendo meglio della media del mercato quindi sono diciamo in un trend positivo non solo nelle ultime sedute ma in modo consistente passiamo adesso all'analisi dei titoli, vi ho detto che guarderemo insieme quelli del Futsimib questo è Atlantia, nelle ultime sedute Atlantia si è mosso per vie laterali quindi lo ha fatto con i prezzi che sono in prossimità della resistenza data al 61,8% di retracement del ribasso dal massimo del 9 di aprile la resistenza è intorno ai 16 Euro, se dovesse esserci una rottura di questa soglia una rottura decisa di questa soglia potremmo puntare al ritorno in area 16,80-16,90 fino a quel momento il suggerimento è di rimanere prudenti perché appunto il 61,8% di retracement è una resistenza che molto spesso si dimostra significativa è quella che sappiamo divide il, o perlomeno tendenzialmente discrimina tra un scenario correttivo e uno di inversione quindi fino a che rimaniamo sul 61,8% di retracement c'è il rischio che poi i prezzi, essendo quella una correzione, tornino a scendere quindi il rialzo dai minimi del 20 luglio potrebbe essere su una correzione se invece venisse superato in modo netto il 61,8% aumenterebbe molto la possibilità di vederli salire fino al massimo precedente in Azimut ieri ha disegnato un nuovo massimo poi i prezzi sono tornati sui propri passi siamo con le cotazioni che hanno questa è la linea di tendenza che parte ai minimi del 2015 vedete hanno avvicinato e negli ultimi seduti e poi superato questa è importante linea di tendenza un return move a toccare dall'alto la trendline che adesso passa intorno ai 23 Euro è possibile fino a che rimanremo di sopra ai 23 Euro l'intonazione positiva resta confermata e c'è la possibilità di andare ad intercettare il lato alto del canale rialzista che parte dai minimi di marzo dello scorso anno e che passa intorno ai 25,15 Euro quindi si può accumulare anche sui prezzi attuali con uno stop subito sotto i 23 Euro e un target è intorno ai 25,15 Euro 25,20 Euro su Interpump abbiamo una situazione positiva il titolo come vedete è sui massimi storici la progressione rialzista che c'è stata negli ultimi mesi è stata evidente c'è stata un'accelerazione perché se andiamo a guardare questa linea di tendenza tracciamo la sua parallela e la facciamo passare dal massimo intermedio vedete questo è il canale che i prezzi hanno seguito praticamente fino a luglio poi hanno accelerato il rialzo e a questo punto possiamo ipotizzare un raddoppio del canale come target quindi prendiamo il nostro canale dal punto di rottura direi che come punto di rottura possiamo considerare visto che qui poi eravamo ritornati al di sotto possiamo considerare quest'area prendiamo la ampiezza del canale la proiettiamo dal punto di rottura e da quel punto facciamo passare la parallela quindi questo è il nuovo target dinamico ovviamente perché c'è una linea crescente che si posiziona intorno ai 60,60,60,65 quindi c'è ancora un po' di spazio per vedere salire il titolo se dovessero poi salire sopra area 60,60,60 e mezzo ci sarebbe un ulteriore segnale di forza attenzione però perché in quell'area potrebbe anche svilupparsi invece una fase correttiva infine Unipol siamo in presenza di una forte area di resistenza i prezzi ieri sono saliti fino a 5,09 questa mattina siamo nuovamente a 5,07 vedete il massimo del 18 di maggio è a 5,11 quindi siamo in prossimità di una forte resistenza oltre 5,10, 5,15 il target si sposterebbe a 5,26 che è il gap del 24 febbraio dello scorso anno e poi avremo la possibilità di salire fino a 5,50, 5,51 l'intonazione di fondo è positiva attenzione perché come abbiamo visto prima siamo in una di quelle situazioni in cui anticipare la rottura dei massimi potrebbe essere piccoloso perché questo potrebbe essere anche un flat correttivo ovvero sia una di quelle figure che caratterizza appunto le fasi di correzione si chiama flat perché si sviluppa lateralmente è composto di solito da tre segmenti potremmo avere visto quindi solo i primi due mancherebbe il terzo ribassista per completarlo questa ipotesi perderebbe diciamo di sostanza sopra 5,10, 5,15 ma fino a che siamo sotto quei livelli non si può escludere appunto che dai prezzi attuali si torni nuovamente sui minimi di luglio quindi attenzione su Unipol a non anticipare il segnale prima di comprare vi ringrazio l'attenzione vi auguro buona giornata e vi ricordo che se volete vedere le analisi degli altri titoli che vi ho citato dovete andare su Patreon cercare FTA online e registrarvi grazie per l'attenzione e a domani grazie per l'attenzione